Inizio, l'ha mangiato, il brinco, l'ino di Grisalieri, ma Raffaele Bernardo all'inizio del 1900 scrive anche Cazzolette. Una di queste vincerà un concorso, il concorso di Porta Susa a Torino, e poi sparerà le cassette della Repubblica. Soltanto negli anni oltanti, l'annoro maestri della formata della Regata Vida da Venezia ricorda questo antico bravo in un cassetto della casetta di Montegra. Questo bravo, che al fine del paulato della Regata Vida da Venezia, che ha sempre che il suo libro di Grisalieri è ricordato anche eccessivamente dal discorso del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mazzarella, che ne ha anche presentato alcune lettere. La settimana scorsa ad Alba, dove ha ricordato alcuni dei personaggi nati nella città delle Langhe. La verità è ricordata che l'Italia è ricordato anche il suo libro di Grisalieri, ma anche il suo libro di Grisalieri è ricordato anche il suo libro di Grisalieri. La settimana scorsa ad Alba, dove ha ricordato anche il suo libro di Grisalieri è ricordato anche il suo libro di Grisalieri. La settimana scorsa ad Alba, dove ha ricordato anche il suo libro di Grisalieri è ricordato anche il suo libro di Grisalieri. La settimana scorsa ad Alba, dove ha ricordato anche il suo libro di Grisalieri è ricordato anche il suo libro di Grisalieri. La settimana scorsa ad Alba, dove ha ricordato anche il suo libro di Grisalieri è ricordato anche il suo libro di Grisalieri.